ciao piccole pesti oggi sono qui per parlarvi del crazy cat caffè l'italia ha davvero bisogno di un crazy cat caffè intanto partiamo dall'inizio che cos'è il crazy cat caffè è un bar il primo cat caffè di milano in italia ce ne sono già altri ma a milano questo è il primo che cos'è in pratica è un normalissimo bar dove potete degustare le vostre bevande calde accarezzando degli adorabili micini voi sapete quanto io adoro quelle bastardissime palle di pelo ne ho uno lì che dorme sul letto tra l'altro ma lasciamo stare ha davvero senso un neco caffè perché si rifà ai neco caffè giapponese appunto dove madre di giapponesi vanno in questi caffè a sorseggiare e accarezzando gatti ma il problema che in giappone ha senso tutto questo perché perché in giappone sono pochissime le persone che possono permettersi un animale domestico le case sono così piccole che se ci entra un gatto un cane l'umano va fuori ok quindi il neco caffè ci può stare per far avvicinare i propri figli per se si amanti dei gatti in giappone sono un po fissati c'è tutto sui gatti anche credo anche la carta igienica forma di gatto ma potrei sbagliarmi ma non ne sono così sicuro quindi dicevo in giappone ha senso per avvicinare comunque se stessi e i propri figli agli animali ma in italia dove anche dal 2012 con la legge dell'appartamento se non sbaglio si chiami una roba simile nessuno può più vietarti di tenere animali in casa tua nessuno anche il condominio non può vietarti di tenere animali che senso ha andare in un neco caffè in un cat caffè se puoi avere i gatti di casa tua secondo me non ha molto senso per amore di io penso che ci andrò anch'io perché sono amante dei gatti però quello che mi viene in mente è non ne vedo il motivo sinceramente più che altro non so come funzionerà qua in italia perché in giappone in alcuni neco caffè paghi a minuti quindi tu stai 30 minuti paghi 500 yen che sono 4 euro 5 euro dipende dal cambio poi in giappone ci sono anche altri tipo di neco caffè dove i gatti sono sono gattine più che altro umani formi gattine umanoidi umane ragazzine vestite da gatto ma questo è un altro discorso quindi ha senso il neco caffè o meglio un cat caffè in italia secondo me no detto questo vi saluto ciao ciao ciao